Voglio dire, quando oggi sento dire da Renzi, terzo governo di fila, parlerò col presidente del Consiglio indiano, adesso gli telefono, ma vuol dire, Alice nel Paese delle Meraviglie, probabilmente farebbe un ragionamento più profondo sulla tematica. A me pare che non ci siano più i margini di farsi le telefonate cordiali per cercare di capire se l'India sarà comprensiva nei nostri confronti.